Salve amici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mike94 e ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di nuovo su Football Manager 2016 con il nostro mitico Wigan e oggi andremo a vedere le partite sicure, quella con Liverpool e forse quella con Leicester Quindi non lo so, vedremo un attimo in base anche ai punti che riusciremo a fare Molto velocemente, allora ragazzi ci servono 6 punti, minimo 6 punti, no 6 punti per il terzo posto e 3 punti per il quarto posto certo Quindi diciamo che ora dipende tutto da noi, non sarà facile soprattutto la partita con il Liverpool Poi c'è anche il Crystal Palace che giocherà col sangue agli occhi visto che proverà a salvarsi E invece quella con Leicester forse sarà un po' più easy visto che già matematicamente salva Quindi diciamo partite non proprio semplici, noi come sempre ce la metteremo tutta E oggi andremo a giocare con Orn, Grimaldo, Reyes, Reed, Tete, Bakayoko, Alan, Rabiot, Mertens, Lemar e Mitroglu Cerco di far giocare molto Bakayoko e Mertens proprio per mantenere la promessa Per quanto invece concerne Aiden e Hughes, non me ne sto fregando più di tanto perché a questo punto li cederò Anche se ci stiamo perdendo veramente una barca di soldi, soprattutto con Hughes, però sti cazzi Detto questo andiamo a bomba alla partita, ripeto sarà un'impresa non proprio facile Soprattutto questa qui con Liverpool in cui loro sono favoriti, stanno in uno stadio di grazia Quindi noi saremo in perenne ansia visto che appunto non possiamo perdere tanto terreno Soprattutto per quanto concerne il discorso Champions Ovvio il terzo posto sarebbe mitico però E ragazzi, insomma già è un miracolo quello che stiamo facendo Quindi tutto ciò che verrà è già oro Ripeto, mi sa che basta tipo un punto per l'Europa League Che era il mio obiettivo principale E già questo obiettivo principale era diciamo impensabile Quindi arrivare in Champions è proprio oltre il sogno Oltre fra virgolette l'impossibile Quindi sono solamente soddisfatto E ovviamente in caso di approdo in Champions Poi si dovrà fare un mercato ad hoc Per fare un ultimo anno di Wigan proprio a bomba Perché poi ragazzi veramente il prossimo poi sarà l'ultimo Lo faccio, lo dico in questo video Però poi sarà l'ultimo insomma, il prossimo E diciamo questo, anche se comunque essendo i sfavoriti Un pareggio diciamo che ci andrebbe bene uguale Forse non ci garantirebbe il terzo posto Però sarebbe un passettino in più per il quarto Poi possiamo vedere anche un po' il Chelsea Minchia, il Chelsea dovrebbe vincerle tutte Ehm, per carità eh, può farlo Anche se comunque è un periodo di schifo Quindi speriamo bene insomma Al sessantatresimo C'è Dries Mertens E qua il contropiede del Liverpool Mi mette una gran paura Con De Paul De Paul l'ha passata dall'altra parte Aib Aib Widmer Ancora Aib Come si pronuncia? Widmer Widmer Cosa accetto? C'è Bente che Mamma mia raga che ansia Ancora Widmer Siamo al sessantatquattresimo Diego Reyes fa fallo Ah, quest'era Reid L'ha passata a Tete Tete per Rabiot Rabiot per Allan Ancora Allan No, cara raga che cazzo No, ragazzi De Paul Bello il pallone per Bente che Bente che si accentra Bente che No 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 Calcio di rigore per il Liverpool Calcio di rigore per il Liverpool Bente che contro Horn Ti prego Horn Fa un miracolo Ti prego Mamma mia Grandissimo Proprio questo stavo pensando Oh, Kostic Che da tanto che non vediamo un rigore parato Grandissimo 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 Kostic c'era Un giocatore che abbiamo avuto Non so se ve lo ricordate Mi sa che l'ho già detto Però sti cazzi E forse è l'ora di fare qualche change Se no I giocatori schiattano Però mi ero fatto un attimo prendere Dall'euforismo Buttiamo una mischia case Buttiamo una mischia anche cristante Che giustamente non sta avendo tanto spazio Però Vabbè ragazzi Poi il discorso Su chi riscattare o meno Lo andremo a vedere Non in questo episodio Ma a fine campionato Quindi Semmai in un video a parte Intanto è finita la partita Raga Alzo le mani Sono comunque felice Di questo risultato E Fantastico risultato Un pareggio comunque ottimo Con un Liverpool ottimo E adesso siamo a Più 4 Quindi il Liverpool Potrebbe Fra virgolette Riagganciarsi E andare a meno 1 Però ragazzi Di sicuro Le partite prossime Con Crystal Palace E Leicester Saranno Leggermente più Facili Il Chavez Vabbè Retrocessi Cazzi Si qualifica per la Champions Ottimo E già qua Non esulto ancora Cioè ovvio Raga Alzo le mani Tanta 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 roba Però A questo punto Voglio Michia Budget trasferimenti 76 milioni Prossima stagione 61 Strano perché noi ne avevamo Ah no 76 Infatti Vabbè Reed Diamo un attimo Di respiro Ottimo Così Ci vediamo Fra pochissimo Eccoci qua ragazzi Allora La partita con Crystal Palace L'abbiamo vinta 1-0 Con il goal Di Mitroklu Cerco di fare un po' più Velocemente Perché ragazzi Mi avete consigliato In diversi voi Di fare video un po' più brevi E allora Ci proverò Quindi parlerò un po' più Velocemente Allora ragazzi Il Chelsea Che cosa ha fatto? Ci ha fatto un grandissimo Favore appunto Pareggiando col Manchester E proprio per questo Siamo riusciti A qualificarci Subito In Champions Diciamo che Ha vinto poi con l'Arsenal Miracolosamente In quanto comunque L'Arsenal è secondo E grazie a questo Il City Ha vinto Il campionato E niente Ci troviamo A tre punti di distacco Dal Chelsea E quindi Praticamente Il terzo posto È ancora in ballo Ma nemmeno troppo ragazzi Perché Comunque Se dovessimo perdere Il Chelsea Andrebbe a pari punti Ma Ben o male La differenza reti È Diciamo molto distante Siamo a 25 Contro 17 Quindi Se non fanno 8 gol 8-9 gol In una partita Difficile che ci Acchiappano Acciuffano Però comunque Ve la voglio far vedere Questa partita Perché contro il Leicester La squadra che L'altro giorno Ha vinto il campionato La Premier Quindi Mi faceva piacere Fare questa partita A farola vedere Anche perché Ne voglio approfittare Sia per il fatto Che appunto Questa squadra Ha vinto Nella realtà Ovviamente La Premier Voglio approfittarne Per usare Alcuni giocatori Poco usati O comunque Per vedere Dei giocatori E decidere Poi Nel prossimo video Cosa farne Quindi giocherà Horn Grimaldo Mettiamoci Zappacosta Diego Reyes Pierce Bakaio Cose Buggato tutto Lan Cristante Suso Lemar E Lefondre Perché Lefondre Perché in teoria Potrebbe anche Essere l'ultima partita Di Lefondre Perché È stato il nostro Talismano Però è da una vita Che non gioca Infatti la forma fisica È veramente Molto molto bassa Quindi Non lo so Vedremo Comunque lo gioca con Darlo Shlup Balanta Messaudi Ivan Canas Drinkwater Sturgeon Montilio Marez E Cramaric Marez Che è diventato Una bestia 36 milioni Sturgeon Che è un giocatore Comunque Non dovrebbe essere male No Invece qua Abbastanza Scarso Cramaric Un attaccante Che Si diceva un gran bene Di lui Però vabbè Non vedo Jimmy Vardy Cioè Michael Eccolo qua Non l'avevo visto Parte Dalla panchina Vabbè Ma bene o male In questo campionato Il Leicester Non ha Più niente da dire Ovviamente Nel campionato di football manager Nel campionato reale Invece Ehm Natavoto Mettiamo questo Nel campionato reale Invece Ha fatto veramente Un miracolo In teoria ci basta Anche un punto Quindi Possiamo giocarci Anche sul contropiede Non sbilanciamo Non sbilanciamoci troppo Ehm Anche se In teoria con Leicester Potremmo Fare qualcosina In più Ovviamente nel gioco Nella vita reale Ci avrebbero Sfondati Ehm Il Chelsea sta perdendo E sarebbe comunque Una grandissima cosa Ripeto Questa è una partita In teoria In teoria Ecco non dico nulla Doveva essere una partita Abbastanza tranquilla Visto che A noi un pareggio basta E Leicester non ha più nulla Da dire Però mai dire mai Nella vita Intanto c'è Fondre che potrebbe regalarci Che potrebbe regalarci L'ultima magia Non è detto Ragazzi Lo vendo Però non si sa mai Regalaci comunque L'ultima magia Non lo fa C'è una bella parata Di Darlow Ehm Però Comunque si è visto Il talismano Ehm Andiamo avanti E speriamo bene Io intanto Vabbè qua Già è sparato al massimo C'è Le Mar Cross al centro C'è Alain Diego Reyes Traversa Che sfiga Che sfiga Veramente Potremmo Chiudere il discorso Terzo posto In questa partita Ancora Le Mar Un giocatore veramente assurdo Quanto mi piace Le Mar Ancora lui Le Mar Palla al piede C'è Le Fondre Che ci regala ancora Grandissime emozioni Daglie 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 Ottimo così Veramente Complimenti Vivissimi Guardate che stacco Che stacco Daglie Daglie 1-0 Wigan Ehm Potremmo chiudere Il campionato Al meglio Con Comunque un ottimo pareggio Con Liverpool Ancora lui Il mitico Il mitico Adam La passa indietro a Grimaldo Grimaldo per Alain 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 Tiene palla C'è ancora il mitico Le Fondre Che sbaglia però qua Marez è molto stanco Infatti non capisco perché L'abbia fatto giocare Non so se hanno tipo intenzione di venderlo Quindi è l'ultima partita con Leicester Non lo so Comunque c'è Ivan Dovrebbe essere Ex Sampdoria Un giudatore che ho usato molto Anch'io Ivan Crossa al centro E Stujon Prende la traversa Qui molto fortunati Comunque una partita Divertente Nonostante Ad entrambe le squadre Fa Farebbe comunque bene Un pareggio Intanto ancora il mitico Non finisce l'azione Peccato Le Marcos al centro Mamma mia Che mostro Le Fondre Che mostro Raga Io ve lo ricordo sempre Che quando l'ho comprato Mi avete criticato Però Sono soddisfazioni queste Sono soddisfazioni Grandissimo Quanto è forte Ormai Probabile a questo punto Non lo vendo più Veramente Un grande Lo so che Contro Ripeto Una squadra Che non ha più Nulla da dire Però Tanta roba Intanto il Chelsea Wow Perde ancora Minchia Io ragazzi La butto lì Giusto per Nel caso il Chelsea Ci Facesse Ci chiedesse Di allenare Cioè insomma Ci chiedesse Un colloquio Con noi Che faccio Questo ultimo anno Lo faccio Con il Wigan O nel caso Remoto Il Chelsea Fa Mi chiede di allenare Vado da loro Ho sbagliato tasto Fatemi sapere Ovviamente Raga E' una cosa Campatenace E' buttata lì Non so Se Mandano via Guardiola Non so niente E Non so nemmeno io Cosa voglio fare Una cosa che vi chiedo Giusto per Quindi Fatemi sapere nei commenti Ovviamente Non vi scannate Ripeto Solo Una domanda Una domanda giusto per Se volete Quest'ultimo anno Col Wigan O nel caso Mertens Appena entrato Ottimo Col Chelsea Però Insomma A me Andrebbero bene Tutte e due Anzi Ripeto Una domanda giusto per Per capire a voi Cosa farebbe piacere Visto che Noto che Diciamo che Alcune volte va bene Il video Altre Meno Ovviamente Siamo arrivati Quasi al sessantesimo episodio Quindi Lo capisco anche Per questo Ripeto Fatemi Sapere voi Cosa fare Anche se Ovviamente Forse Portare Wigan In Champions Sarebbe Una È una gran figata Anche Perché i milioni Come avete visto Ci sono Se li spendiamo bene Potremmo fare Una buona squadra Ovvio Se poi li buttiamo A cazzo Tipo 31 milioni Per Grimaldo È ovvio Che non riusciamo A fare Una ceppa Però Insomma Secondo me Potremmo Costruire Una bella squadetta Ragà Il Chelsea Ha Se non sbaglio Ha perso O forse ha pareggiato Non lo so Si ha pareggiato E Quindi ragazzi Noi arriviamo Mi sono dimenticato i punti Madonna mia Comunque arriviamo Sicuri al terzo post Quindi Veramente possiamo andare A festeggiare Però A 74 punti Ragà Che è un buon bottiglino Cioè In Serie A Con 4 punti In più Vinci il campionato Quindi Tanta tanta roba Questo Wigan Che è micia Voi vi aspettavate 74 punti A fine A fine stagione Io per niente Però Tanta roba Sto Wigan 3-0 Il Crystal Palace Detrocede Vabbè Sti cazzi Stoke Vabbè Qua potremmo Eccolo qua Raga Stoke Esona 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 Guardiola Lester Anche Esona Clement Non mi chiedete Di allenare Lester Perché non avrebbe senso Cioè Nella realtà Sì Sarebbe una Ficata Però nel gioco Non Non ha senso Visto che Non hanno Non stanno Né in Europa Né in Champions Quindi Sarebbe un passo Indietro Fatemi solo Sapere Quanti nomi Emery Conte Clop Pochettino Insomma Fatemi sapere Wow Conte è disoccupato Fatemi sapere Insomma Voi che ne pensate Di questo fatto Anche se Non ne sono Molto convinto Ragazzi Cioè Godiamoci Appieno Questo momento Veramente Ragazzi Sono Felicissimo Tanto Tanto Felice E niente Per non far durare Troppo il video Grandissimo Adam LeFound Sempre nel Nel mio cuore E addirittura All'An Ricercato dal Chelsea Ma io All'An Non me ne Preverei Mai E poi Mai Gioitore Che amo E niente Ragazzi Quindi io Spero che il video Vi sia piaciuto Spero che non sia Durato troppo Spero che questo Terzo posto Importante Vi sia Piaciuto Vi abbia fatto Piacere E' un miracolo Ragazzi E Oramai si Siamo abituati Con i miracoli Con l'Eibar Lo Spezia Ma vi giuro Che quest'anno Io non me lo aspettavo Quest'anno Ho pensato L'Europa Ci ho pensato Sì perché Ero convinto Che avremmo potuto fare bene Alla fine ragazzi Abbiamo un cazzo di squadrone Però la Champions Proprio Non me lo aspettavo Tanta roba Veramente Detto questo ragazzi Allora facciamo così Scrivetemi nei commenti Cosa fare Se rimanere al Wigan O provare Andare al Chelsea Per questo ultimo anno In Premier Fatemelo sapere Nei commenti Perché In base a questo Poi Gestirò Il prossimo video Insomma E detto questo Ragazzi Come sempre Mi piace Commentate a bomba E un saluto A Mike44 Ovviamente Football Manager Italia Ciao ragazzi Sì Sì Sì